è l'abbonamento perfetto per te fidati promo over 65 e tu che sai fare bene i conti risparmi 80 euro rispetto alla scorsa stagione e poi comunque si incurva con i ragazzi è un'altra cosa almeno lì ti muovi un po sai che se porti tutta la famiglia vabbè che con la tua famiglia riempiamo il palazzetto cioè se vieni con tuo fratello tua mamma a proposito come sta la mamma abbonati ai rosso blu per la nuova stagione scopri le promozioni senti senti te lo è dedicata ai tifosi di tutta l'età anche tu non dici niente